simpatica ed originale iniziativa per l'alto casertano quella che mettere in campo il conad di alife presso il centro commerciale l'elifantino il prossimo 16 novembre si chiama l'asta del pesce una occasione per chi ama i prodotti del mare perché per quel giorno con inizio le ore 17 le occasioni saranno tante con prezzi vantaggiosissimi a spiegarci tutti i particolari dell'evento il direttore del conad paolo sullo sentiamolo allora che cos'è innanzitutto l'asta del pesce è un evento mi pare nazionale in dato a piedi mondo quanto si terrà si terrà il 16 novembre qui nel nostro supermercato si è un evento nazionale che per la prima volta in campagna lo riproponiamo noi praticamente verrà riproposta una vera e propria ambientazione tipo mercato verrà fatta una vera e propria tasta e lo scopo principale è far conoscere i nostri prodotti perché il cliente riuscirà anche ad ottenere prodotti a prezzi stracciati anche al 50 per cento in meno del valore di mercato quel giorno ovviamente quel giorno è un unico evento che lo riproponiamo noi come dicevo prima per la prima volta che viene fatto in campagna è un'iniziativa che conad fa a livello nazionale ecco vogliamo ripetere esattamente la data il 16 novembre ecco vuole dire qualcosa ai suoi clienti vi aspettiamo numerosi e una giornata di festa perché in concomitanza con il primo anniversario di apertura del punto vendita quindi vi aspettiamo numerosi per festeggiare tutti insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti